Quanti di voi adorano gli stagnetti costeggiati da canne di bambù e pieni di ninfè con fiori colorati? Io personalmente li adoro, ma quanti di noi hanno davvero lo spazio per poter avere il proprio stagnetto personale? Pochissimi. Ecco da qui l'idea dei mini pond, gli stagni in vaso. Ciao a tutti, mi chiamo Letizia e sono ingegnere e designer. Nel mio canale vi parlerò soprattutto di design di interni e del verde. Avrei dovuto registrare questo video circa un mese e mezzo due fa, solo che tra le vacanze estive, il lavoro e il fatto che mi sia rotto il portatile ho avuto un po' di problemini. Nell'ultimo video vi avevo dato qualche consiglio su come creare il perfetto mini pond, quindi su come avviare un ecosistema senza doverlo continuamente andare a sistemare. c'è la mia gatta. E in questo video invece vi parlerò di come ho creato io il mio mini pond. Quindi vi farò vedere l'evoluzione degli ultimi quattro mesi che ha avuto il mio stagnetto, quali piante ho inserito, quanto sono cresciute, quanto rapidamente si sono propagate e vi parlerò anche di qualche piccolo problemino che ho avuto. Ho trovato online il vivaio etabeta e ho fatto un ordine, sono stati davvero molto carini perché oltre a mettere le istruzioni su come piantare le piante hanno anche impacchettato tutto singolarmente. Ho preso anche dei cestelli forati in più, più per un pensiero di un mini pond futuro un po' più grosso del mio, perché nel mio in realtà non ci stavano questi cestelli. E per ogni pianta hanno messo anche l'etichetta per riconoscerle, quindi bravissimi, mi è piaciuto moltissimo. Allora come ho creato il mio pond? Ho iniziato mettendo circa un paio di centimetri di substrato per piante d'acquario e poi ho coperto tutto con della ghiaietta d'acquario. Io ho preso della ghiaia fine ma si possono prendere anche sassi più grossi. Ho preso anche qualche pianta da un ragazzo che ho trovato tramite facebook su marketplace, infatti trovate un sacco di appassionati di piante che vendono o scambiano piantine sia acquatiche che non. Allora io ho preso questo mix, un po' di Pistia stratiotes che come vi ho fatto vedere nell'altro video sono piante galleggianti molto carine, sono carine perché sembrano delle piccole rose con le foglie idrorepellenti, pelosette e queste sono ottime sia come piante ossigenanti che come ombreggianti. Ho preso anche qualche salvinia natans che va bene sempre sia per ombreggiare che per ossigenare e anche questa ha le foglie che sono un po' idrorepellenti. Mi sono fatta dare anche un po' di Lemna minor che è una piantina galleggiante piccolissima, altamente infestante e che va molto bene però per ombreggiare. Ecco invece le piante del vivaio etabeta. Allora non potevo non provare a prendere una ninfea, ho preso una ninfea pigmea rubra che fa i fiori quasi rossi e pigmea quindi è una ninfea nana che va bene anche in pond molto piccoli, con un diametro minimo anche di 40 centimetri, quindi andava bene anche per il mio pond. Avrei dovuto inserirla in un cestello ma siccome i cestelli non ci stavano nel mio vaso l'ho interrata e poi ho ricoperto di ghiaia per far rimanere tutto ben ancorato. Quest'altra pianta, l'idrocaris morsus rane, è una pianta galleggiante con le foglie molto simili a una ninfea e è particolare perché fa dei fiorellini bianchi molto molto carini e sono riuscita a farla fiorire quest'anno. Ho preso anche l'eleocaris acicularis che è una piantina simile all'erbetta che va bene per ossigenare. Se avete visto l'altro video vi ricorderete anche che è importante avere delle piante per la fitodepurazione e le migliori sono le piante palustri come questo Acorus calamus variegatus che trovo bellissimo per queste foglie striate. Ed ecco il mio pond dopo soli 11 giorni. Avete visto come era all'inizio quindi già qui potete vedere quanto rapidamente si siano propagate le piante. All'inizio ho notato che c'erano tante foglioline mangiucchiate e non riuscivo assolutamente a capire che cosa fosse. Comunque ero contenta perché le piante si propagavano velocemente e a distanza di circa 15 giorni il pond era già diciamo riempito quasi per metà e tutte le piante avevano fatto nuove foglie e però c'era ancora un po' questo problema delle foglie smangiucchiate che non riuscivo a capire bene a che cosa fosse dovuto. allora a quel punto ho anche scritto in un forum di appassionati di mini pond per capire e mi hanno detto di provare a vedere un po' se c'erano uova o vermetti o qualche altra cosa nelle foglie. Dopo 20 giorni ho anche deciso di spostare il pond e l'ho messo dove riceveva più luce perché dove l'avevo messo all'inizio era un po' troppo in ombra e se avete letto le descrizioni delle piante precedenti quasi tutte queste piante hanno bisogno di almeno 6 ore di luce nell'arco della giornata. Dopo 25 giorni il pond era già quasi pieno. Le piantine avevano probabilmente risentito un po' dello spostamento quindi c'era qualche fogliolina gialla però devo dire che questa cosa si è risolta abbastanza velocemente. A questo punto tra l'altro ho notato dei vermetti erano loro probabilmente i responsabili dello smangiucchiamento delle foglie e ho preso tutte le mie piantine di idrocaris morsus rane che erano quelle che... questa è la mia gatta! L'idrocaris morsus rane era quella diciamo infestata da questi vermettini, l'ho tolta tutta, l'ho sciacquata completamente e devo dire che poi il problema si è risolto. C'era qualche fogliolina comunque smangiucchiata un po' dalle lumache ma le lumachine vanno bene per l'acquario perché mangiano le parti oramai marce e quindi nell'ecosistema vanno bene. Dopo 35 giorni, praticamente dopo un mese, il pond era quasi tutto pieno. e non so se avete notato che ho distribuito un po' già da subito, ho suddiviso le piante in base alla tipologia e sono stata contenta di averlo fatto perché mi piaceva avere il pond abbastanza ordinato. Qui vedete comunque dopo un mesetto che sono diminuite le foglie gialle, c'è una nuova foglia di ninfea. Questa è una piantina che ne ho trovato un pezzettino in un fiumiciattolo e ho provato a inserirla. Questa invece è una callapalustre che in teoria avrei dovuto mettere nel pondo ma ovviamente non ci stava quindi l'ho messa per estetica solo lì all'esterno. E qui vedete la salvinia natans che l'ho spostata rispetto al resto. Comunque già qui si può vedere come le piante prevalenti siano la pistia stratiotes e la lemna minor che avevano a questo punto già praticamente invaso tutto. Questa è la piantina che ho messo che dopo poco è cresciuta tantissimo. E ho trovato anche delle piantine che non so cosa fossero che erano probabilmente insieme alle piante del vivaio etabeta. Dopo due mesi, grandissima soddisfazione, grandissima enorme soddisfazione, il primo fiorellino bellissimo dell'idrocaris morsus rane. Ha fatto un fiore minuscolo, troppo carino, troppo tenero, bianco e se vedete alla base si vede che stava per spuntarne anche un altro. E questo invece era lo stato generale del laghetto, quindi con le pistie sempre più belle, sempre più grosse e la salvinia natans invece che è stata un po' inglobata da tutto il resto. A distanza di poche ore, quindi dalla mattina al pomeriggio più o meno, il fiorellino è sbocciato. Questi fiori sono caratterizzati da tre petali bianchi e l'interno giallo-arancione. Insomma, io ero veramente troppo contenta, ho passato tutta la giornata ad ammirare questo fiorellino. Non sono riuscita bene a metterlo a fuoco da quanto era piccolo, però spero che si veda lo stesso. Il giorno dopo è sbocciato quel fiorellino che avevo visto, quindi insomma è durato solo un giorno e ho notato che ce n'era anche un altro pronto a sbocciare. Dopo qualche ora subito sono cresciuti. Insomma, come potete vedere, la crescita di questi fiori è velocissima, la durata è un po' breve, però insomma sono davvero 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 molto belli. Mi è un po' spiaciuto che la ninfia non abbia fatto nulla, ma devo dire che probabilmente è stata un po' troppo inglobata dal resto delle piante. Questa è la situazione dopo le vacanze estive. Quel tubicino è dell'irrigazione perché ho dovuto chiaramente mettere un sistema di irrigazione che aggiungesse anche acqua man mano, altrimenti sarebbe evaporata tutta perché sono stata via per un mese. Un po' di piante le ho date via perché era veramente troppo pieno. Comunque potete vedere che la pianta che ha prevalso è la pistia. Sono cresciute tantissimo sia in numero che in dimensione. La ninfia è sopravvissuta, le altre piante, la salvinia natans sta così così e invece l'idrocaris morse ursorane è andato sul fondo, credo. Quindi penso che non sia morta ma che ricomparirà poi quando le temperature sono più alte in primavera. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per qualsiasi dubbio, chiarimento se volete farmi qualche domanda riguardo ai video passati o se c'è qualche argomento in particolare che vi piacerebbe che trattassi, scrivetemi pure. Se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e seguitemi. Ciao a tutti!